Ciao ragazzi, il video di oggi lo voglio dedicare ai due set più belli del gioco di caldo e collezionabili dei Pokémon. E ovviamente, come potete vedere, stiamo parlando dei set gym. Collezionare i mazzi è probabilmente una delle esperienze migliori in assoluto, ma anche nello stesso tempo una delle peggiori. Questo perché sono diventati sempre più difficili da trovare, ma soprattutto ce ne sono talmente tanti diversi che è veramente difficile riuscire a trovarli tutti insieme e molto spesso ci si ritrova a dover impazzire per trovare il mazzo. Nel mio caso, questa cosa è avvenuta col mazzo di Sabrina, l'ultimo aggiunto alla famiglia. Ho iniziato questa collezione due anni fa ormai e ho deciso di prendermela con tutta calma, nel senso che nel momento in cui riuscivo a trovare un'occasione ne avrei preso uno poi l'altro e alla fine, con un po' di fortuna, sono riuscito a completarli tutti e otto. E quindi in questo video volevo farveli vedere un po' da vicino. Senza sportellino, molto meglio. Direi di iniziare dai G-Mirrors che, posso dirlo, probabilmente sono quelli un po' meno ricercati. Anche a livello di valore hanno un valore un po' più basso rispetto agli altri. Diciamo che entrambi i set hanno dei mazzi meno richiesti di altri, però in generale i mazzi G-Mirrors si trovano a un prezzo un po' più competitivo dei mazzi G-M Challenge. Niente, iniziamo quindi dai G-Mirrors. Allora, partiamo dal fatto che comunque il set G-Mirrors aveva delle carte lo stesso stupende. Mi viene in mente il Rocket Maltress che andava a completarsi con la mia carta preferita che è Rocket Zapdos del G-M Challenge. Questo è il mazzo Litter Surge. Aspettate un attimo che mando un po' indietro gli altri. Questo mazzo conteneva Litter Surge Magneton. Non so se si riesce a vedere bene dall'immagine. Comunque, andiamo a vedere questo mazzo un po' più nel dettaglio. Conteneva questa moneta con Starmy. La parte dietro è abbastanza comune e poi veniva personalizzata in questa piccola area. I mazzi, come sempre, contenevano 60 carte e contenevano anche, cioè, chiaramente, le carte base per poter far evolvere questo Litter Surge Magneton. Bellissimo. Questo forse è il mio preferito per quanto riguarda i G-Mirrors. Probabilmente perché Litter Surge è un po' il più cazzuto dei capopalestra del set G-Mirrors. Mettiamolo qui. Passiamo a Erika. Erika probabilmente è il mazzo più facile da trovare. Questa cosa la riscontriamo anche nei mini mazzi giapponesi, dove il mazzetto di Erika è assolutamente comune, mentre gli altri mazzi cominciano ad essere un po' più difficili da trovare. Questo mazzo non è perfetto, ha questa leggera cosina qui, però, cioè, davvero, Questa è un'inizia che mettermi a cercare un altro mazzo per questo angolino mi sembra veramente assurdo. Logo Wizard, sempre bellissimo. Questo box conteneva Erika Weillplum. La moneta rimane sempre la stessa. E cambia soltanto quando andremo a vedere i Gym Challenge. Una piccola curiosità sui mazzi. Questo è il primo video sui mazzi che faccio. Se siete incerti che un mazzo sia vrappato correttamente, o avete ansia che sia stato risigillato o cose di questo tipo, andate a cercare sempre due caratteristiche. Adesso ve le mostrerò nel prossimo mazzo, che è quello di Brock. Le due caratteristiche sono queste. Prima cosa. La chiusura deve essere a V. I mazzi dell'epoca venivano vrappati nella parte alta con questa chiusura ripiegata in questo modo, a formare una V. Questa chiusura la trovate anche in altri punti. Eccola qua. A V o A X, non so come volete. Comunque, questa tipologia di chiusura deve essere sempre presente. E un'altra cosa caratteristica è questa linea. La vedete? Questa linea è impercettibile. Potete anche toccarla. È un leggero stratino. Questa era la pellicola che serviva per aprirli. Cioè, in un punto preciso del mazzo, ci sarà un punto sporgente che serviva a fare questo movimento e aprire la parte superiore del mazzo. Questa linea deve essere sempre presente o in questo modo o addirittura in alcuni mazzi inglesi o in altri mazzi che semplicemente venivano vrappati in modo differente trovate la linea longitudinale. Per cui, se la trovate in questa posizione, non preoccupatevi. Era un altro modo per vrapparlo. Ok, vediamo questo mazzo di Brock. anche lui molto bello. Non preoccupatevi per la sigillatura magari messa un po' male con dei buccherellini, eccetera. Ricordiamo che anche questi venivano vrappati velocemente con della colla per cui venivano attaccati così. Quindi queste parti laterali in genere sono sempre un po' vrappate male nella parte dove si chiude. Quindi la parte destra, diciamo. In questo caso è destra, magari potrebbe essere anche sinistra. Questo mazzo conteneva Brock Raidon. Anche questa è una carta, boh... Sinceramente queste carte qua si vedevano in giro da piccoli semplicemente perché si trovavano magari nei pacchetti ma non ho mai sentito di gente che sia andato a prendere questa tipologia di mazzo. Però, non lo so, magari le bambine andavano a prendere Erika piuttosto che Misty ma secondo me erano più propensi ad andare a prendere Sabrina perché contiene quel Sabrina la Kazama che è cazzutissimo. Ecco qua il mazzo di Misty. Beh, diciamo che Misty Tentacruel è una bellissima carta. Anche da piccolo, la prima volta che l'ho vista è stato un po' pazzesco, incredibile, mostruoso. Cioè, da proprio un aspetto di possenza. Sembra quasi un film che si chiama Final Fantasy non so quanti di voi possono averlo visto dove c'erano queste specie di fantasmi che popolavano un pianeta disabitato e non penso che c'entri nulla con Final Fantasy il gioco per dire la verità per quello che chiedo se qualcuno di voi può averlo visto e c'erano dei mostri che avevano assolutamente questo aspetto soprattutto per quanto riguarda il naso e Misty Tentacruel in questa posizione mi ricorda molto questi mostri. Ok, quindi questi sono i mazzi Gym Challenge. Facciamo un attimo una panoramica. Eccoli qua. E passiamo invece ai mazzi più desiderati. Li ho messi un po' in ordine di prezzo soprattutto ma anche di desiderio nel senso che allora per prima cosa diamo Koga Mazzokoga è il mazzo più semplice da trovare dei Gym Challenge anche qui cioè queste queste cose sono davvero trascurabili anche per uno fissato per le cose in ottimo stato come me però davvero c'è andare a fissarsi sull'angolino leggermente imbronciato piuttosto che ricordiamoci che basta anche appoggiarlo un po' irruentemente per fare un danno del genere per cui niente di assurdo anche qua le X ci sono sempre poi chiaramente si vedono più o meno a seconda anche della polvere questo Koga è un po' leggermente più impolverato rispetto agli altri e Koga conteneva Koga's Beedrill e una moneta anch'essa molto più figa rispetto a quella dei Gym Heroes che era questo Alakazam tra l'altro nella stessa raffigurazione del set base se non sbaglio e poi nel caso mi correggerete ecco qui anche qua dietro è l'angolo di prima questa leggera pieghettina però beh nel senso non sono così fiscale cioè nel senso che sì anche anche questa leggera piega piuttosto che però se un mazzo è sigillato è sigillato cioè ricordiamoci che anche dentro il case da 8 mazzi se non maneggiato con cura possono andare possono andare a rovinarsi per cui addirittura dentro il box vuol dire davvero che che si mantengano perfetti è davvero difficile questo è il mazzo di Giovanni che conteneva Giovanni Persian questa questa realtà è una carta veramente figa l'ho vista spacchettare davanti ai miei occhi ai tempi e ci sono rimasto abbastanza di merda nel senso che quando a dieci anni vedi qualcuno spacchettare una roba pazzesca dicevi ah cazzo io trovo la nonolo terribile e invece anche qui una sorta di X anche se questa è un po' più fatta leggermente male la la strip c'è sempre tra l'altro un'altra curiosità nei mazzi set base inglese inizialmente venivano brappati con una con una striscetta d'oro infatti questi mazzi prendono il nome di gold strip e sono i mazzi più richiesti cioè più richiesti in assoluto set base inglese perché sono sicuramente shadowless mentre gli altri c'è sempre la possibilità che non lo siano e hanno delle loro caratteristiche i mazzi gold strip sono al 100% shadowless per cui hanno valore sia per le carte che ci sono dentro sia dal punto di vista collezionistico perché sono state proprio la prima serie delle mille serie di mazzi diverse che hanno fatto in inglese passiamo ora ai mazzi ai due mazzi più costosi questi mazzi attualmente sono sui 120 130 euro l'uno sono più difficili da trovare perché sono i più richiesti infatti questa Sabrina ci ha messo una vita a trovarlo e anche perché sono i sono i due mazzi più fighi cioè parliamone non all'80% i bambini andavano a prendersi le bambine andavano a piarsi Sabrina e i bambini andavano a piarsi Blaine principalmente per la carta che conteneva nel senso che come ho detto prima questo Sabrina la Kazam è qualcosa di boh folle anche questo mazzo questo ho messo molto bene qua potete vedere una linguetta con cui probabilmente veniva appeso in passato perché alcuni mazzi hanno questa linguetta col gancetto cosa probabilmente è stata tagliata però è rimasta attaccata le X la strip questa ha una grafica eccezionale e ora passiamo a il mazzo l'ho tenuto per ultimo apposta perché questo mazzo non c'è storia era il più desiderato perché principalmente conteneva una delle carte più fighe di entrambi i set che era Blaine Arcanine cioè ragazzi vedendo Blaine Arcanine nel raccoglitore di qualcuno cioè io l'ho visto la prima volta e ho detto dove l'hai preso e ho dovuto estrapolare con forza il ragazzino che era contenuto dentro il mazzo per cui ho rotto le palle a mio padre per un mese almeno fino a che non è riuscito a trovarlo tra l'altro piccolo siparietto il giorno in cui doveva andare a prendere il mazzo Blaine a scuola non ho potuto pensare ad altro se non a lui che andava letteralmente a prendere questo mazzo sono tornato a casa in fibrillazione lui mi ha guardato e mi ha detto i mazzi Blaine li avevano finiti e io ci sono rimasto assolutamente malissimo e invece poi guardando verso la sala ho visto che c'era il mazzo Blaine appoggiato sul televisore e cioè è una sensazione che ancora mi porto dietro vedere questo mazzo Blaine appoggiato alla tv chiaramente quel mazzo Blaine è resistito sigillato per circa boh 6 barra 7 secondi il tempo di distruggerlo e tirar fuori Blaine Arcanine e ho addirittura delle foto fatte con una foto compatta di io che tengo in mano Blaine Arcanine per farvi capire c'è una reliquia questo è il mio Blaine Arcanine guardate la mia foto del mio Blaine Arcanine e niente questo mazzo per me è il più evocativo il più bello graficamente è il più figo Blaine è il più figo di tutti non c'è storia questa raffigurazione di di Arcanine è qualcosa di incredibile è contenuta anche come gigantografia dentro il box di mazzi che un giorno vi farò vedere il box sigillato di 8 mazzi e niente anche qua possiamo vedere la strip vediamo le croci sotto più o meno fatte bene anche qua ah questo è stato sigillato abbastanza bene perché la parte qua è a filo vedete sono ancora più contento di questa cosa a questo punto cioè è stato messo talmente bene che non ha creato nessun tipo di sbavatura come invece avete visto negli altri mazzi cioè beh ce ne sono già alcuni che sono così vedete guardate invece sabrina si sono create queste leggere ondine diciamo che vabbè una volta che veniva incollato rimaneva in quella posizione questa sabrina in particolare ha anche questa parte leggermente attaccata male niente ragazzi questi sono i mazzi gym se volete iniziare a collezionarli posso dirvi che è un'assoluta avventura il budget si è abbastanza elevato nel senso che diciamo che per essere certi di trovarli tutti facilmente dovreste stanziare più o meno una somma di 70 80 100 euro a testa per ogni singolo mazzo però se avete la fortuna potete anche trovarli a minor prezzo soprattutto la parte dei gym heroes per poi tenere abbastanza fondi per concentrarsi nel trovare i gym challenge niente nei prossimi video magari vi farò vedere il deck box da 8 mazzi anche quello lì è un pezzo incredibile nel mentre non so godetevi questa immagine scrivetemi magari nei commenti qual era il vostro mazzo preferito perché io ho dato per assunto questa cosa dei mazzi gym challenge ma in realtà qualcuno può dirmi no guarda a me gasava tantissimo little suge magneton per cui non esisteva altro box questo è il mio box preferito il mio mazzo preferito per cui penso che sia una cosa assolutamente oggettiva io vi dico la mia versione soprattutto la versione della mia classe delle elementari della mia scuola cioè tutti volevamo questi mazzi piuttosto che gli altri va bene ci vediamo al prossimo video ciao